Considera De Pellegrino, la rotatoria di Corso Cavour è stata prorogata, le piace? Sì, ma qui non si tratta di piacere o non piacere la questione di istituzione di una rotatoria, si tratta di ribadire all'amministrazione che non ci si può alzare al mattino e cambiare la circolazione e il traffico della città. Quella rotatoria è stata istituita perché erano necessarie delle misure di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni natalizie all'interno dell'isola pedonale. Ebbene ha fatto l'amministrazione a creare quelle condizioni di circolazione. Oggi, anzi ieri, il comandante della Polizia Municipale emette una nuova ordinanza che proroga, sine die, quel sistema di circolazione così, senza essersi confrontati con nessuno. Allora, può andare anche bene la circolazione, ma c'è la necessità di adottare anche gli strumenti giusti perché l'ordinanza non può avere un inizio e non avere una fine. Quindi anche lo strumento adottato non è corretto. Consigliere Longo, la rotatoria di Piazza Cavour, le piace? Diciamo che fa parte di una programmazione dei PUMS. Era un intervento temporaneo. Il comandante dei vigili ha ritenuto di prorogarla. Io dovrò chiedere al comandante quali sono le motivazioni perché non è che un dirigente si perizia di comunicare ai consiglieri comunali perché viene presa una decisione. Tuttavia, conoscendo il comandante delle noci, ritengo che la sua ordinanza debba avere un fine. Certo, se è quella del rispetto della circolare Minnitti sulla questione dell'antiterrorismo, ho qualche cosa da ridire. Perché noi dobbiamo prendere dei provvedimenti sulla base di una nostra programmazione, non di una preoccupazione che andava considerata fin quando vi erano i mercatini. Oggi i mercatini non ci sono più sull'isolo pedonale. Ritengo che la decisione del comandante delle noci sia inconverente rispetto alla programmazione del Consiglio Comunale.